Ami 100% Electric è un oggetto di mobilità anticonformista, rivoluzionario, 100% elettrico, accessibile a tutti. Rappresenta la risposta concreta della marca Citroen alle nuove esigenze di mobilità urbana e alle sfide di rispetto ambientale. Si guida a partire da 14 anni e offre soluzioni di utilizzo e di acquisto adatte alle esigenze di ognuno. È un oggetto ultracompatto, 2,41 m di lunghezza, 1,39 m di larghezza, 7 m di diametro di sterzata, estremamente agile e maneggevole per l'uso in città, facile da parcheggiare. All'interno lo spazio è stato sfruttato al meglio per far sedere comodamente due persone una di fianco all'altra, con ampio spazio per le spalle e per le gambe. Numerosi vani portoggetti, tra cui una nicchia davanti al passeggero per un bagagliaio dalle dimensioni da cabina. Offre una guida fluida, silenziosa, 75 km di autonomia, velocità fino a 45 km orari e soprattutto la batteria del motore elettrico si ricarica ovunque in sole tre ore con una normale presa di corrente da 220 volt. Il suo design è sottolineato da elementi di personalizzazione, quattro e-kit di personalizzazione in altrettante tinte che il cliente può ordinare online e applicare facilmente da solo, a cui si aggiungono due versioni con un livello di personalizzazione superiore che includono tra l'altro spoiler, profili passaruota oppure barre al tetto e decorazioni specifiche per la fiancata. Acquisto a partire da 5.430 euro comprensivo di ecobonus statale 2020 oppure soluzioni di utilizzo da 12 a 48 mesi con un'offerta di punta su 36 mesi che prevede un canone iniziale e 35 mensilità da 19,99 euro al mese.